Nel 2019 la fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha acquistato la Villa Liberty che appartenne al generale Bertinetti. Lo scopo realizzare un centro diurno per i malati di Alzheimer. Abbiamo quindi intervistato il presidente della fondazione Aldo Casalini che ci ha spiegato in maniera dettagliata questo importante progetto che intende venire incontro e supportare quelle famiglie che hanno in casa un malato di Alzheimer. Nel 2019 la fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha acquistato un immobile, una vecchia Villa Liberty che apparteneva al generale Bertinetti, che è stata una gloria della scherma nazionale e internazionale. L'acquisto ha avuto una precipua finalità che è stata quella di realizzare un centro diurno per i malati di Alzheimer. Siamo partiti da lontano, siamo partiti dal 2019, abbiamo ottenuto le convenzioni con Nasr e con Regione Piemonte e finalmente durante la mia presidenza al mese di settembre del 2020 sono iniziati i lavori. Sono lavori di ristrutturazione che dureranno circa un anno e mezzo, si pensa di riuscire a inaugurare Villa Bertinetti attorno al mese di marzo di aprile del 2022, lavori molto onerosi, circa 1 milione e 600 mila Euro, che però consentiranno di realizzare un centro diurno Alzheimer all'avanguardia, moderno, dotato di laboratori, dotato di palestre, dotati di un percorso addirittura sensoriale esterno nei giardini, dotato di tutte quelle attrezzature che serviranno a stimolare i malati di Alzheimer, a favorire delle diagnosi precoci, ma soprattutto a consentire alle loro famiglie, quantomeno in orario diurno, di poterli affidare a mani esperte e capaci senza gli affanni e le preoccupazioni che purtroppo i malati di Alzheimer generano quotidianamente insieme alle loro famiglie. Il progetto verrà fatto in collaborazione anche con l'Associazione Vercellese dei Malati di Alzheimer che presso Villa Bertinetti avrà la sua sede operativa.